Mancano sangue e plasma, donate. L'appello arriva dal dottor Pietro Pantone, direttore dell'area dipartimentale trasfusionale della Toscana Sud-Est. In estate assistiamo ad una flessione delle donazioni, spiega, complice il caldo eccessivo che non aiuta i nostri donatori, ma serve sangue per fronteggiare le richieste provenienti dalle strutture ospedaliere toscane. Per implementare le donazioni e fronteggiare la necessità del sistema sanitario regionale, sono state così messe a disposizione dei donatori anche quattro aperture straordinarie domenicali negli ospedali della provincia d'Arezzo da adesso sino alla fine dell'anno. La prima è il 29 settembre, poi il 27 ottobre, il 24 novembre e il 15 dicembre. A queste poi si aggiungono le aperture straordinarie pomeridiane per la donazione del plasma il primo e il terzo lunedì del mese. Per accorciare i tempi di accesso alla donazione, poi da mercoledì 28 agosto per gli aspiranti donatori all'interno del centro trasfusionale del San Donato entrerà in funzione l'elettrocardiografo donato lo scorso giugno da Calcit e Rotary Club Arezzo. Occorrono infatti due diverse visite prima di arrivare alla donazione vera e propria che al momento avviene solo al terzo accesso dell'utente al centro trasfusionale. L'elettrocardiografo a disposizione adesso permetterà di eliminare un accesso accorpando la visita di idoneità ed elettrocardiogramma nello stesso momento, a vantaggio del donatore e anche del centro trasfusionale che potrà così ridurre i tempi necessari per arrivare alla donazione.